Tu sei Santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l'Altissima, l'Onnipotente, Tu Padre... Nel file che trovate dedicato agli scritti, quelli che avete visto, di Paolazzi, troverete anche l'elenco di parole di Francesco che sono presenti, per esempio, nella Regola Bullata, nel Secondo Testamento, nell'Ammunizione 27, Lettere ai Fedeli, eccetera. Restituiamo al Signore tutti i beni e uno esortazione alla lode e alla penitenza, adorare la Trinità nella dimora interiore, pregare con Gesù che si è degnato di pregare per noi, ringraziare per la creazione e la salvezza, questo è uno dei punti più, anche teologicamente, più importanti, invito alla perseveranza all'amore di Dio. Poi ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le chiese, come sapete, lauda delle virtù che allontanano i vizi, meditazione orante sulla comunione trinitaria, meditazione trinitaria e l'ode universale, acclamazione all'umiltà sublime dell'Eucarestia, domanda cristiana come cammino trinitario. Come altri detti di Francesco, o secondo il linguaggio degli esegeti del Nuovo Testamento, logia di Francesco, quello di cui abbiamo parlato questa mattina, circa la curialitas domini, curialitas domini, vediamo se riusciamo a ritrovarlo subito, no, allora curialitatis dovrebbe, neppure, pazienza, sono dei testi ai quali dare credito per la francescanità, cioè quando Francesco parla è molto biblico e evangelico, proprio perché in continuo meditava e si cibava del Santo Vangelo. Noi siamo a questo punto, stiamo guardando alcuni passaggi della vita di Francesco, che da giovane, da Vanus, cioè da un po' figlio del suo tempo, passa a essere discepolo del Cristo, del Cristo vissuto e sperimentato nella passione. Il Cristo crocifisso con il Cristo di Betlemme e con il Cristo dell'Eucarestia, nell'Eucarestia e nel povero sono quattro teofanie, epifanie cattoliche. I cattolici in questo sono, siamo tutti, dovremmo essere tutti estremamente convinti e ammirati. Sembrano cose facili e sono cose facili. Agostino definisce i nostri misteri, l'azione di Dio facili, ma cioè sono facilissimi da capire e anche da celebrare, ma al tempo stesso mantengono, e lui parla con parole che sono oggettivamente errori, di Augustissima, Augustus è già un superlativo, dire Augustissimus è un errore, ma fatto da un professore d'università come Agostino, che era un retore, cioè era un maestro della parola latina, e lo compie l'errore, un altro errore terrificante per i grammatici, è super eminentissimus. Eminens è già un superlativo, super è un superlativo al di là di ogni necessità, issimus è la desinenza superlativa inutile, come se noi parlassimo dicendo il nostro Dio, e in Dio anche noi o la Chiesa, Dio è super ottimissimo, siccome questo è uno dei punti che i maestri di scuola insistono molto con i bambini, non dite mai ottimissimo, perché ottimo è già un superlativo, se nelle scuole elementari dicessimo super ottimissimo avremmo una matita rossa di quelle che usavano una volta, quasi che rovina il foglio tanto è profondo l'errore fatto. Ma Agostino, che è molto bravo nelle grammatiche latine, quando compie questo errore, lo compie apposta, cioè razionalmente vuole con l'errore grammaticale dire che non c'è nulla di più grande di questo Signore, dei suoi misteri. Le scelte dei brani che possiamo fare, riferibili non tanto agli elenchi che stiamo facendo, ma al testo che stiamo seguendo, devono riprendere tutto da capo, se poi vogliamo capire bene, quella cena molto simpatica, molto bella, che abbiamo descritto partendo dal testo latino. E prima che cosa c'è? Perché da quella notte in poi troverete Francesco trasformato, non è più il Francesco naturale, con le virtutes naturales, che sono importantissime nella crescita anche spirituale. Per cui prima del paragrafo o capitoletto, o se piccola sezione numero 7, dovete davvero giocare tutta l'antropologia francescana. E l'antropologia francescana ha uno schema cristologico estremamente preciso. Cioè come in Gesù avete il perfetto uomo, così anche nel cristiano ci deve essere la perfetta persona umana, natura umana, potremmo parlare meglio così. E come in Gesù c'è il vero e perfetto Dio, così in ogni cristiano deve esserci la perfetta divinità adottiva, in unità di persona, due nature in unità vivente. Ma due nature distinte. Quando noi parliamo della curialitas di Francesco, la curialitas è innanzitutto una virtus naturalis, cioè non è una virtù teologica. Poi avete visto quel testo di Francesco che applica alla carità che è Dio lo stesso modo comportamentale di una persona che è molto matura nelle relazioni. Sappiamo che tutto è carità, per cui quando vedete Gesù agire non potete sezionare la perfezione divina dalla perfezione umana se non in un modo abbastanza approssimato. Non si può misurare al grammo la differenza, però si deve sapere che Dio come divinità non ha sete e se Gesù quando a mezzogiorno in Samaria al pozzo di Giacobbe ha sete è la sua natura umana. Spero che in questo punto cominciate a esercitarvi bene nelle distinzioni minime per non cadere nelle eresie e nell'unità sostanziale vivente della stessa persona. Quando Gesù muore sulla croce la divinità non muore. Dire che muore la divinità è un'eresia grande come l'universo. Al tempo stesso muore il corpo, l'umanità di Gesù. In quale misura, in quale entità, in quale particolarità non bisogna esagerare. Altrimenti arriviamo nel 1400 noi francescani a litigare con i dominicani. Agli inizi siamo fratelli e sorelle, anzi siamo fratelli e fratelli. Addirittura Domenico propone a Francesco di fare fusione tra i due ordini. Francesco invece non volle. Ma nel 1400 già le differenze sono molto forti. Tanto da dire il problema era il sangue di Gesù morto sulla croce. Sul sangue di Gesù morto si sono arrivati proprio a litigare tanto che il Papa nella seconda metà del 1400 dovette intervenire dicendo smettetela di litigare sul fatto se il sangue di Gesù morto essendo Gesù Dio è un sangue solo umano per cui potrebbe essere anche non venerato oppure è un sangue che appartenendo a Dio in unità di persona deve essere venerato. Non è una cosa banale attenzione perché ad esempio il problema sindonico se uno dovesse andare a Torino e ritiene che la sindone è vera, autentica di fronte a quel tessuto ci si deve inginocchiare perché è sangue vero di Gesù vero. Ma secondo i Domenicani non bisognerebbe inginocchiarsi perché essendo in quel momento la divinità lontana dall'umanità e chi ti dice che è lontana al tempo stesso è chiaro che la divinità non ha il gruppo sanguigno non è che il padre va a farsi gli esami medici il padre a tutt'oggi non ha corpo tutte le immagini di Dio padre che ci sono in chiesa andrebbero velate perché il padre non è vecchio non ha la barba bianca questo nella tradizione iconografica paleocristiana era evidentissimo nei grandi apsidi delle basiliche paleocristiane il padre è una nube che all'interno è nera tanto è luminosa il nero è di eccesso di luce e man mano la conchiglia va verso la croce o verso altri misteri diventa sempre più colorata più bianca eccetera e quando vedete una mano che esce dalla nube non è la mano di Dio padre Dio padre non ha le mani è semplicemente un simbolo paleocristiano di origine bizantina bizantino biblica per cui quella nube sta parlando io spero che in teologia facciate anche un buon corso di iconografia paleocristiana di archeologia paleocristiana perché le simbologie che ancora oggi usiamo facciamo un esempio che potrebbe diventare sondaggio se uno partecipa bene ai corsi la IHS cosa vuol dire che è famoso per il nome di Gesù Bernardiniano Bernardino da Siena ha riempito l'Italia l'Europa di questo splendido segno era usato anche negli esorcismi da Carlo da Sezze che è un grande esorcista ebbene per capire questo bisogna sapere che I H sono due lettere greche non sono latino infatti in latino non c'è la H nel nome di Iesus nella porta del tabernacolo bellissima che avete in chiesa vedete che c'è Iesus latino ma senza la H non c'è se c'è è un residuo di modo greco arcaico di scrivere in greco latino perché poi la S greca non è la S del simbolo bernardiniano è una C maiuscola per cui bisognerebbe anche lì sapere che la S greca C maiuscola viene sostituita dalla S maiuscola latina ma le parole della I H S che poi qualcuno arrampicandosi sui vetri dicono che è Iesus hominum con l'acqua salvator quello è arrampicarsi sui vetri dando alle parole un significato che relativamente è sempre molto facile da fare ma il vero significato è dare al latino la spiegazione della H quello vuol dire Gesù ma che c'entra l'H in un nome di Gesù anche greco in greco non c'è nessuna traccia di aspirata di accento aspirato nella parola greca di Iesus se queste cose non le sappiamo è semplicemente perché non ce le hanno spiegate fin da piccoli perché un bambino che vede l'ostia consacrata che vede un'immagine bernardiniana sulla propria casa molte volte anche sui portoni delle case può benissimo chiedere al genitore ma cosa vuol dire quel segno e se il genitore non sa quasi nulla della propria religione è chiaro che dirà ma quando sarai grande te lo spiegheranno questa è la risposta più oppure vai dal prete e lui te lo spiega perché sono cose loro cioè no è veramente quella quell'arte che manifesta la fede quell'arte che tra l'altro come francescani in terra santa noi siamo i custodi della simbologia del primo secondo terzo quarto secolo noi francescani e un francescano come padre Emanuele Testa che è morto da pochi anni è il grande maestro della simbologia giudeo cristiana ha scritto un volume alto così tanto tanto importante da studiare altrimenti la simbologia la lasciamo nelle mani dei massoni la lasciamo nelle mani degli esoterici la simbologia è un linguaggio è un modo molto bello sintetico a volte anche complesso di descrivere il mistero di Dio con delle allusioni con dei messaggi davvero straordinari io tutto questo volume l'ho in computer questo dimostra quanto sia importante studiarlo un corso sulla simbologia paleo cristiana non esiste ancora per quello che in molti casi pure nella semplicità anzi proprio perché i simboli a volte sono semplici dovremmo conoscerne i contenuti ecco se volete studiare l'Humanitas di Francesco partite subito dagli inizi dal secondo piccolo blocco il numero due il primo blocco è il dedicato alla lettera che non andrebbe bene in questa tre compagni si dicono tre compagni ma è difficile stabilire che i tre compagni abbiano scritto questo testo al limite sono due compagni molto ben precisi uno l'anonimo perugino con i testi paralleli e l'altro quel compagno sconosciuto di Assisi la lettera che precede la leggenda va molto meglio nella compilazione di Assisi quella è più facile scoprire più umani nei tre compagni bisognerebbe dire tre compagni per modo di tradizione del manoscritto in realtà bisognerebbe forse meglio dire due compagni non tre questo per dire che i confronti che avete visto la pagina bianca la pagina parallela poi portano anche delle conseguenze sui titoli in questi primi paragrafi fino alla notte del pranzo famoso della cena famosa avete la descrizione della psicologia di Francesco Francesco è adultus innanzitutto non è uno juvenis ricordo che nel medioevo si diventa adulti molto presto io vi auguro di ritornare a una civiltà che come già esiste in Africa come già esiste in Asia civiltà europea che anticipi un po' la maturità nulla di speciale possiamo anche accettare che un frate una donna facciano i voti a 60 anni uno può anche aspettare che uno faccia i voti a 90 anni dove magari è più è più sicuro di obbedire di essere povero di avere la castità più al sicuro il che non è mica detto perché se l'anima il cuore è un po' agitato anche a 90 anni non avete pace la pace viene dall'amore di Dio e l'amore di Dio prima giunge se la dolcezza di Dio prima irrompe nella nostra vita e prima troverete la pace del corpo della mente della relazione con le ricchezze e della relazione con il cibo questi quattro grandi istinti o pulsioni che Dio ha messo in noi molto forti mai avvicinarsi troppo alla marmellata perché la marmellata è più forte delle tue i tuoi buoni propositi mai avvicinarci troppo alla sessualità perché è più forte dei buoni propositi mai avvicinarsi troppo al potere perché è più forte di quanto sono le nostre le mie buone intenzioni lo stesso per tutte queste grandi potenzialità essere adulto non solo ma di sottile ingegno è intelligente Francesco lo si vede in tutti i suoi scritti e nei particolari del suo comportamento non solo è capace di esercitare la negoziazione oggi si usa anche in italiano la parola negoziazione a livello diplomatico quando con difficoltà e nel tempo tu riesci a concordare con la controparte qualcosa la negoziazione in genere sono più giorni che competono ad una negoziazione è chiaro che la negoziazione è una negoziazione in materia di commercium di stoffe e di vestiti di stoffe diremmo all'ingrosso e di stoffe estremamente ricercate al tempo stesso era molto dissimiliter cioè esercitava il mestiere in modo opposto al papà papà solo soldi solo potere Francesco invece soldi guadagnati con intensità e capacità commerciale ma al tempo stesso capacità di ridere di spendere e di spendere anche in modo liberalior vuol dire che invece di dare dieci Francesco può dare anche cinquecento come un principe si permetterebbe di fare esagerato a volte a volte nella liberalità hilarior vuol dire capace di sorriso capace di divertimento mai di un divertimento banale o cattivo detitus iocis et cantibus non soltanto alla negoziazio del commercio tenete sempre presente queste doppie capacità di Francesco e questa riga vi anticipa la notte che abbiamo descritto è proprio agli inizi al paragrafo paragrafetto 2 civitate massisi die notucque circuiens sibis imilibus sociatus qui esagera un po' questo die notucque sembra che notte e giorno San Francesco andasse in giro a fare a divertirsi no si divertiva quelle poche volte che il lavoro permetteva ma quelle poche volte girava tutta la città di Assisi tenendo conto che l'Assisi di oggi non è l'Assisi di Francesco era molto più ristretta la basilica chiaramente non c'era dove c'era la basilica era detto il collis inferni perché era fuori le mura c'era il cimitero e c'era il luogo di impiccagione degli assassini perché dove c'è il cimitero ancora oggi c'è uno spiffero di vento che viene dalla vallata che è inabitabile adesso è abitabile perché hanno costruito tre basiliche una sopra l'altra un convento con dei contrafforti che sono una delle opere d'arte medioevale assolute e quello era stato voluto da Francesco lui quando prima di morire manifestò la volontà di essere sepolto come un assassino cioè un assassino impiccato ecco io voglio essere sepolto lì dove hanno sepoltura i peccatori più grandi più evidenti quelli uccisi dalla comunità poi con la costruzione della splendida basilica viene chiamato Collis Paradisi il Colle del Paradiso ma prima che venisse chiamato Colle del Paradiso anche nelle stampe che vivendono ad Assisi ce n'è una del 700 o del 600 non saprei dirvi dove c'è scritto Collis Inferni con un impiccato proprio è una bella stampa perché vuol dire che studiavano bene le tradizioni di Assisi e le fonti che le testimoniavano oggi credo che nessuna guida si azzardi a dire quando guardate su di lui quando fate la visita alla basilica giottesca sopra vi dicono questo era il Colle peggiore che si potesse immaginare in tutto il comune che era molto grande di Assisi Francesco è umile non è una persona che gioca con l'umiltà e quando dice di essere il peggiore tra tutti i peccatori non scherza è nella logica reale della considerazione che lui ha di se stesso si considera amatissimo da Dio ma anche si considera come ragiona alla verna quando riceve le stimmate come un vilissimo verme in realtà è sempre molto curialis anche quando è umile non si chiama verme ma vermiculus cioè vermicello vermicello è sempre simpatico se lo fotografate ha sempre un aspetto simpatico il vermicello il verme invece prepotente antipatico se lo fotografate vi viene voglia di schiacciarlo ricordo che l'amore per questo modo di definirsi viene dal passo biblico dove il Cristo attraverso la profezia dice che sulla croce sarà trattato come un verme e quando Francesco nella compilazio assisiensis o nello speculum lemmens dice andava per strada specialmente quando pioveva i vermi vengono fuori quando piove lo sanno bene i merli non so se li conoscete i merli quegli splendidi uccelletti che cantano benissimo e che sono la disperazione dei frati ortolani e giardinieri c'era a Roma nella mia comunità un frate veneto fra giocondo lui sistemava tutti i vasi e a distanza di tre metri c'era il merlo che lo controllava appena andava via e metteva le reti per proteggere la terra il merlo andava e cominciava e allora lo chiamava con una tipica affermazione veneta molto molto colorita e molto simpatica i parenti gli dicevano non solo i genitori che faceva troppe spese troppo grandi notate tenete conto che è adulto e intelligente e molto capace di guadagnare i suoi soldi poteva benissimo dire a papà e mamma sono soldi miei ma al tempo stesso siamo in una società molto dove la famiglia è tutt'uno e giustamente gli avrebbero detto no no non sono tuoi sono nostri di una famiglia e per quello che il papà andrà poi a chiedere al vescovo mi dia indietro tutti i soldi e tutti i vestiti e li spendeva nelle comestionibus ricordate cosa vuol dire comestionibus e in altre cose in paradiso gli chiederemo udienza a San Francesco per vedere un po' com'era la sua giovinezza ricca è la giovinezza di gente che oggi potreste paragonare a dei milionari in dollari cioè un milionario in dollari può fare cose un po' al di là del normale però avendo i soldi suoi la gente dice fa quello che vuole con i suoi soldi anche se questo nella cultura asiatica africana e america latina non è molto comprensibile cioè i soldi sono della comunità che ti ha messo al mondo non sono tuoi tu senza la comunità non saresti arrivato dove sei è il villaggio la tua famiglia ricordo a Roma un sacerdote non so di quale era del Ghana forse era passato io gli chiesi un po' di alcune tradizioni e lui mi riferiva del fatto che la vocazione nella sua etnia non chiamatele tribù chiamatele etnie che è un termine un po' più solenne chi decide come ti sposi se ti fai religioso se ti fai sacerdote non sono i genitori sono le zie le zie sono i fratelli dei genitori immaginate come è forte il tessuto familiare cioè in pratica uno di quel tipo di tribù ma da quello che so c'è molto più diffusa questa prassi lui è figlio di due o tre mamme naturalmente di una ma è mamma anche l'altra zia la terza zia e a volte per legge è una delle zie che ti dice ti do il permesso la benedizione di sposarti di diventare frate di diventare sacerdote possibilmente vescovo mi raccomando perché scusa qui non è che hai due genitori di genitori ne hai almeno tre o quattro immagina i fratelli i nipoti i cugini eccetera questo modello bisogna tenerlo presente molto anche per le società medioevali anche se già il diritto romano per cui già da millenni l'individuo è già molto molto consolidato questi parentibus sono persone che possono dire la loro e al tempo stesso lo amavano tenerrime cioè tenerissimamente e lo tolleravano in questi in talibus in queste cose generiche per cui sono molte le stranezze di Francesco la mamma che è sempre mamma addirittura di fronte alla prodigalitas diceva ma che cosa pensate di mio figlio essendo così liberale è chiaro che si sarebbe avvicinata a una risposta sarà un grande sarà uno che avrà una grande carriera notate l'aggiunta seconda che non è molto storicamente accettabile perché la mamma avrebbe detto sarà un figlio di Dio per grazia in genere le mamme quando hanno dei figli qualcuna è santa cioè considera la santità come investimento come grande carriera ma non non tutte non sempre in genere le mamme dicono ma che cosa ne pensi di mio figlio poi se uno dice ma dimmi alla gesuita dice a monna pica cioè a signora pica guarda dimmi tu che cosa pensi di tuo figlio allora la mamma di Francesco vi direbbe ah è un figlio che farà grandi cose è un po' esagerato nelle spese però si vede che sembra un figlio nobile di gente nobile è come dire anch'io sarò nobile nella nobiltà di mio figlio l'altro fratello non è come Francesco e attenzione le sorelle di Chiara sono abbastanza simili ma il fratello di Francesco anzi approfitterà a volte per offendere con molta forza la scelta di Francesco e Francesco dovrà rispondere addolorato ma con parole abbastanza forti largus prodigus negli indumenti essendo erano il suo specializzazione di vendita aveva dei pannos carriores cioè panni di grande prezzo e le fiandre ancora oggi sono già allora erano famosi per il trattamento del lino e di altri tessuti specialmente il lino che è un tessuto di difficile ma anche di preziosità molto grande il sommo sacerdote ebraico le vesti bianche devono essere tutte di lino la sindone di lino non è un tessuto ma un lino di bisso cioè molto prezioso e molto costoso la curiositas è un'altra caratteristica dell'umanità di Francesco tanto da diventare vanitas cioè uno fa delle cose senza nessun senso questo è il famoso versetto unico nelle fonti dove vedete nello stesso indumento di panno molto costoso valdecarum molto caro è un italianismo cioè un modo italiano di scrivere in latino con un panno vilissimo consui faceva faceva cucire un panno sdrucito ormai neanche da mendicante a pezze su un panno splendido sono delle vanitate che ancora oggi ci sono presso i miliardari dicevamo facendo dei paragoni con i jeans che sono un tessuto tipico di persone semplici era quasi naturaliter quasi naturaliter vuol dire che anche se non si fosse convertito all'amore di Dio battezzato era battezzato ma sarebbe sempre stato curialis vedete il famoso termine in moribus et in verbis cioè nel comportamento esteriore e nelle parole mai Francesco è una persona che dice una parola ingiuriosa o turpe anche se nei giochi nei momenti dove i giovani in genere si lasciano andare a cose un po' pesanti a volte succede anche nei religiosi Francesco mai ancora prima di convertirsi ecco addirittura aveva fatto un propositum cioè una determinazione di stile di vita di mai dire a cose in circostanze giocose o lascive lascive vuol dire un divertimento che si sa bene che è un divertimento che porterà alla passione a lasciarsi andare mai e non solo fece proposimento di mai rispondere minimamente a provocazioni di questo genere per cui Francesco quando verrà fatto prigioniero verrà messo nella prigione dei nobili cioè i perugini hanno percepito che era un soldato un cavaliere nobile e l'hanno messo con i nobili e quando il nemico percepisce dal tuo comportamento un atteggiamento un comportamento preciso percepisce l'appartenenza della tua famiglia sbaglia ma ha ragione nel dire Francesco aveva la nobiltà non di famiglia ma la vera nobiltà di comportamento attenzione allora quando leggete il nostro carissimo Celano dove se andate a vedere il modo di essere e di fare di Francesco vi spaventate qual è la versione giusta la versione giusta è la versione rarissima nel vedere dei Santi con una giovinezza di questo genere la tendenza degli agiografi è sempre quella di dire dal peccato dal mondo dei peccati Dio mi ha tolto mi ha salvato come anche Francesco dice nel testamento ma per una persona curialis è peccato anche un peccato veniale attenzione peccato veniale per una persona gentile e nobile è un peccato di rusticitas di maleducazione che uno non se ne pente chissà quanto e un esempio di questi peccati di rusticitas è proprio subito dopo era molto largo nella elemosina e essendo molto intelligente è capace essendo adulto di rimproverare se stesso di esortare se stesso San Francesco San Francesco prima di avere della gente che lo esorta lo rimprovera è capace senza andare in crisi di esortare e di umiliare se stesso ragionare prima che gli altri lo facciano ragionare questo è molto bello ad esempio dal momento che sei largus et curianis presso gli uomini dai quali non ricevi non ricevi se non un favore transitorio e inanis cioè senza consistenza giusto è che tu a causa di Dio che è generosissimo largissimus nel donare nel retribuire ai poveri tu sia curiale e largo curialis et largus sono due virtù naturali cioè un buon nobile uno che aspira ad essere duca deve essere abituarsi a essere curialis et largus libente rigitur quando vedeva i poveri faceva loro elemosine affluenter dal racconto del lebroso sappiamo che siccome aveva nausea dei lebrosi dava l'elemosina al suo servo aveva essendo ricco una specie di assistente e il servo portava al povero in quel caso al nauseante lebroso l'offerta ma non scendeva neanche da cavallo voltava la faccia solo la visione del lebroso gli era da gli veniva la nausea propria e anche dal momento che era un mercante i mercanti sono avari lui invece era un dispensator vanissimus opulensi e secularis nelle lemosine anche attenzione quando incontrava un povero anche verso i poveri si differenziava dagli altri i soldi li aveva per cui li donava in modo molto grande se incontrerete dei miliardari che vorranno Dio vi concederà che diventino vostri fratelli accoglieteli fateli maturare in queste virtù naturali prima che diventino frati e il testo molto interessante in assoluto è quando un giorno nella apoteca apoteca è il negozio teca di qualcosa vuol dire custodisce qualcosa apoteca in Germania è ancora usato per definire la farmacia in Germania è una parola greca teca vuol dire custodire apò custodire qualcosa qui è un indicatore di localizzazione nell'apoteca sua aveva panni e vendeva in questo modo molto sollicitus quando lui lavora è molto fedele all'orario cioè se la giornata deve riuscire a vendere un broccato un damasco eccetera e devi convincere la donna o l'uomo a comprare era molto sollicitus la parola sollicitus vuol dire che non passano cinque minuti che uno non controlli non veda sollicitus è una esagerata presenza a un determinato tipo di azione infatti si dice delle mamme che sono molto piene di sollecitudine per i figli specialmente gli ammalati ma per tutti i figli venne un certo povero chiedendo a lui l'elemosina per amore di Dio attenzione a questo fatto lui detentus preso incatenato detentus ancora oggi si dice che sono un detenuto nelle prigioni vuol dire proprio schiavizzato dalla mercazio mercazioni scura cioè preso dalla conclusione dell'affare a lui l'elemosina avendo negato le parole che vedete cambiate sono probabilmente inserite dopo amplificando un po' il fatto se ipso marguit cioè rimproverò se stesso di magna rusticitas la rusticitas capuccina per esempio può essere anche una virtù in realtà non lo è nei tempi presenti dove rusticitas significa maleducazione e a volte davvero relazioni molto spinose quella non è la rusticitas negativa e positiva dice a se stesso se per un grande conte comite o barone il povero lui da te qualcosa avesse chiesto attenzione non per se stesso io ti vengo a chiedere sono un povero disgraziato ma te lo chiedo per il conte di Bevagna per esempio oppure il conte di Spello per cui quello che tu dai va a finire non al povero ma attraverso il povero al conte a una persona nobile lui certamente il postulatum quello che ti chiedeva sibi dedisses cioè quel sibi non a sé ma sibi vuol dire a lui in quel caso medioevale latino medioevale questo avresti dato perché se il conte viene a sapere che tu gli hai rifiutato un pezzo di stoffa che l'ha chiesto attraverso un ambasciatore povero poi il conte che è più grande di te che non sei ancora un nobile te la fa pagare perché tutto il mercato di Spello te lo sogni ecco notate la finezza cioè quel pauper Francesco lo vede in una transazione al suo livello non è il pauper per l'elemosina è il pauper per una transazione per un comes o per un baronis quanto ergo magis per il re dei re e per il signore di tutte le cose questo avresti dovuto fare in paradiso gli chiederemo se davvero ha fatto questa seconda riflessione sapendo che era cristiano andava a messa eccetera oppure se è una riflessione già un po' da dopo cioè se la riflessione si dovesse fermare alla prima parte del ragionamento quel povero che rappresenta un nobile e se tu rifiuti al povero offendi il nobile se questo era il processo vero di ragionamento io non l'ho cancellato perché non bisogna poi esagerare troppo nella critica anche delle fonti da allora in poi nel suo cuore propose che protanto domino cioè per un signore così grande un re dei re il signore neanche l'imperator omnium il dominus omnium omnium dominus le cose ricercate per suo amore amore dei per nulla al mondo non più negare un